Ciao ragazzi, io sono Carmen, ma da oggi sarò la vostra tutor di matematica. Sono una ragazza di Maratea, cittadina della Basilicata. In tempi ormai lontani ho frequentato il liceo scientifico. Successivamente ho preso la laurea magistrale in ingegneria civile, indirizzo strutturale ed ile. La passione per la matematica mi ha accompagnato sin dai tempi del liceo. Studiare la matematica mi fa rivivere l'adolescenza, forse è per questo che mi piace. Mi ha fatto appassionare un professore bravo, preparato, ma anche molto severo, ed è per questo che devo ringraziarlo. Da tempo aiuto ragazzi in difficoltà con questa materia, cercando di alleggerirla e renderla divertente. Ho voluto ampliare questa attività condividendo i miei contenuti qui su YouTube, con l'obiettivo di essere di aiuto a più ragazzi e dimostrare che l'ossica materia della matematica, se presa nel modo giusto, può diventare perfino un gioco. All'interno del canale cercherò di trattare nel modo più semplice possibile le seguenti materie. Matematica, geometria descrittiva, fisica. Se avete argomenti particolari, scrivetelo giù nei commenti, io cercherò di accontentarvi. Intanto iscrivetevi al canale, attivate la campanella cliccandoci sopra per ricevere tutte le notifiche dei miei prossimi video. Io intanto vi saluto, anzi no, la vostra tutor di matematica vi saluta. Ciao, vi aspetto ai miei prossimi video. Ciao.